Il progetto da Marete è giunto alla terza edizione, quest'anno come è stata la partecipazione, la risposta da parte delle scuole e se ci sono dei lavori che già avete visionato? Sì, questa è la terza edizione del progetto da Marete, 15 le scuole coinvolte, quindi una risposta molto positiva da parte del territorio. Le scuole di ogni ordine e grado con vari elaborati da parte degli alunni sia singoli che come gruppo classe hanno voluto esprimere il loro pensiero su quello che è il loro desiderio di uscire dalla violenza, di comunicare alla vittima di violenza come uscire dalla violenza. Allora hanno utilizzato vari strumenti, la fotografia, il cartellone, il powerpoint, addirittura un cortometraggio, proprio per dire no alla violenza e lo dicono appunto i giovani che sono il futuro della generazione. Quindi se vogliamo che la società migliori dobbiamo partire dai giovani. Oggi c'è la prima riunione della commissione per esaminare i lavori e penso che sia una riunione molto proficua ma soprattutto positiva. Possiamo visionare appunto i lavori dei ragazzi che anche attraverso delle fotografie hanno voluto imprimere il loro segnale per dire no alla violenza. Cosa state trovando tra gli spunti che vengono da loro? Stiamo trovando delle cose inquietanti, di un mondo sommerso giovanile, sommerso ma spesso messo in luce da loro stessi o dalle forze anche esterne, di un mondo che dico che ci dà cinquieta, insomma ci turba e quindi l'associazione si prefigge di dare una voce a chi subisce e di dare una calmata a chi magari ha di queste tentazioni di prepotenza, di violenza. Naturalmente alla luce di un percorso storico e già i ragazzi anche vediamo dei lavori che cominciano insomma a vederlo attraverso una cultura greco latina e così fino a noi, ma che ha spesso nelle periferie urbane delle grosse metropoli un nido tremendo di attecchimento e questo è triste ma anche triste perché è arrivato pure nelle periferie e nelle zone nostre che sembravano un pochino più fuori da questa ondata, da questi pericoli.